Cifre che abbiamo sentito l'altro giorno che mettevano i brividi. Sì, senta, io magari prima di dirle delle cifre volevo commentare i giornali stranieri perché avendo delle attività all'estero posso magari dire che spesso il popolo anticipa la preoccupazione, lei ha fatto vedere i supermercati, io le dico che la Lufthansa ha 150 aerei a terra o la France ha gli aerei vuoti in questo momento, l'Italia ha quasi metà degli aerei a terra, questo significa che la preoccupazione economica del settore parte dalla compagniera, arriva all'albergo, arriva all'agenzia di viaggi e al tour operator e quindi è tutta la filiera che viene impiattata violentemente. Le posso dire che le reazioni poi delle aziende che sono quelle che determinano intraeuropeo i viaggi e quindi determinano i numeri dei viaggi e determinano anche le frequenze e i momenti sul blocco dei viaggi che ci sono state subito dopo l'informazione del coronavirus hanno reso gli aeroporti vuoti, quindi io sono andato ieri a Linate, sono andato a Roma e sono tornato indietro, ci potevo come ho già detto giocare a pallone o andare col monopattino perché non c'era nessuno ed era assolutamente vuoto. Ovviamente al di là dei numeri e delle cifre che sono solo una prima lettura ma secondo me saranno molto peggio e quindi bisogna prepararsi al peggio, c'è un bisogno di comprensione di quello che sarà oggi l'impatto. Alberghi vuoti, non ci sono clienti che entrano dentro nei vari negozi, pochi ovviamente, gli aeri sono vuoti ovviamente perché se non ci sono aziende che dicono ai propri dipendenti di andare in trasferta ovviamente non c'è nessuno che viaggia e tutta questa cosa qua fa nascere dagli aeroporti, alle compagniere, agli alberghi, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a tutta la filiera un enorme e grandissimo problema di sopravvivenza nei prossimi due mesi. Io dico che ci saranno secondo me due mesi di enorme difficoltà, molte aziende se non hanno un aiuto immediato e qui torno ancora con l'estero, in Francia hanno dichiarato uno stato di emergenza per il settore, il giorno dopo sono arrivate le istruzioni della Cassa Integrazione, i sindacati hanno già risposto, in tre giorni da venerdì a lunedì c'è stata una risposta immediata, quindi secondo me io quello che chiedo del governo è un'efficienza totale, poche chiacchere, risultati certi e un sostegno a un settore che ha sempre dato tantissimi soldi allo Stato italiano di surplus che in questo momento è messo in ginocchio e quindi noi ci dobbiamo rendere conto di sostenerlo. Allora adesso io torno alla sottosegretaria guerra con una domanda ben precisa legandomi anche alla sottosegretaria guerra con la sottosegretaria guerra con una domanda ben